allora io farei partire questa giornata sono molto emozionata devo dire sono molto contenta di questa adesione che ho avuto spero che questa sarà un'occasione molto utile di confronto fra di noi che siamo tutti un più o meno dei professionisti della traduzione o di altre cose analoghe come il giornalismo la letteratura la critica eccetera ma che sia anche una buona occasione per gli studenti che si apprestano a questo mondo molto particolare delle scienze umanistiche vi dico due parole solo sul perché ho deciso di fare questa giornata che fra l'altro ho scoperto essere quasi esattamente dieci anni dopo la giornata in cui Tullio Dobner venne a Urbino invitata all'università di Urbino proprio dieci anni spaccati io dovessi insistere moltissimo per averlo a Urbino perché Tullio era una persona estremamente schiva schiva non amava la pubblicità la popolarità e soprattutto continuava a dirmi ma io cosa ci vengo a dire ai tuoi studenti sono loro che devono fare lezione a me e io una modestia così l'ho incontrata poche volte nella vita e più uno mi dice di no e più io mi incaponisco per cui riuscì ad averlo a Urbino a quel tempo insegnavo cultura americana in quel semestre e avevo circa 150 studenti frequentanti mi ricordo il momento esatto in cui Tullio si sedette alla scrivania e che è quella che ho messo poi nel nel manifesto e continuava a non credere a questa cosa e sapete come cominciò questa cosa voglio raccontarla veramente come un aneddoto che per me è stato formativo lui cominciò la sua lezione raccontando gli errori di traduzione che lui aveva fatto nella sua vita cioè nessuno gli aveva chiesto nessuno aveva cioè cominciò dagli errori scusandosi spiegando le motivazioni e fra l'altro parlando di un periodo in cui non c'era ancora internet Stephen King non era assolutamente desideroso di incontrare i traduttori di altre lingue quindi con delle grandi difficoltà lui un uomo estremamente modesto e umile e l'altra cosa che che ricordo con i ancora con stupore e che mi ha fatto capire quanto è importante il lavoro che stiamo facendo come traduttori fu il momento finale finisce la conferenza e inaspettatamente del tutto inaspettatamente si forma una fila di studenti che cominciava dalle ultime file e finiva la cattedra ed è durata mezz'ora di studenti che avevano in mano un libro che era stato tradotto da lui e che venivano a chiedergli la firma cioè io questa cosa non l'ho mai vista in nessun'altra circostanza di chiedere la firma al traduttore dopo qualche volta mi è successo ma perché si si ricordava quell'occasione ragazzi che sapendo che ci sarebbe stato Tullio Dobner avevano trovato in casa libri tradotti da lui avevano chiesto ai genitori e venivano a chiedere la firma di Tullio questa cosa per me è stata illuminante cioè ho capito che si può fare ok cioè noi siamo delle persone importanti però questo cosa vuol dire che abbiamo delle responsabilità come ci ha ricordato Tullio se noi traduciamo tutto bene e poi facciamo un errore è per quell'errore che saremo tartassati ricordati cazziati e questa cosa sappiate che succede a tutti anche quando l'errore è dell'autore viene incolpato il traduttore a me è successo una volta sono stata molto furba perché io trovai un errore di un autore era un errore di balistica quindi Cristina può 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 capirmi era un errore di balistica lo capivo perfino io che non sono un'esperta io contattai l'editore e gli dissi cosa devo fare vuoi che io sia fedele al testo o io posso correggerlo e lui mi disse no no correggilo correggilo lasciamo perdere perché se no la colpa comunque magari poi la danno a te e comunque non è carino per il rispetto del lettore quindi questa è l'altra grandissima lezione il rispetto del lettore volevamo fare un premio dedicato a Tullio Dobner la bozza del regolamento è stata in qualche modo bloccata nella nostra università per motivi burocratici prima e di covid dopo e quindi è passato il tempo e allora siccome io sono una persona un po' impaziente secondo me due tre anni erano già un tempo inimmaginabile ho pensato ma sai che ti dico facciamo tutta un'altra cosa facciamo una giornata di studio dedicata a Tullio questa cosa non devo chiedere i permessi a nessuno mi sembrava bellissima come un iter molto semplice molto smooth e quindi ho deciso di fare questa giornata siccome era nato in un in un momento mi sembra agosto comunque in un momento in cui non era possibile fare una giornata con gli studenti ho deciso per il 19 novembre che è il giorno in cui se ne è andato mollandoci qui con tutti i nostri con tutti i nostri problemi terreni finisco dicendo che uno degli ultimi libri che ha tradotto forse l'ultimo ma forse no è stato The Martian eh di Weir eh che è stato poi adattato di cui è stato fatto anche il film di Ridley Scott e qui oggi abbiamo una persona che è eh una una successora non so se si dice forse è vera che non mi farei mi direbbe che posso dirlo una successora di eh una degnissima succeditrice forse dovrebbe essere di Tullio che ha tradotto uno stupendo romanzo eh tutto ambientato su Marte e e quando Tullio quando gli parlai del del suo romanzo ambientato di questo romanzo che lui aveva tradotto che è il marziano sopravvissuto mh lui mi disse io per tutto quel periodo lì sono ci sono stato su Marte cioè io ero su Marte ero su Marte con i personaggi ecco questo vuol dire tradurre io vi ringrazio tutti e darei la parola eh l'ordine mi sembra prima Raffaella e poi Luca Raffaella è la moglie di Tullio non me la sento di chiamarla in altro modo perché Tullio c'è è con noi e quindi la la grandissima moglie compagna eh amica collaboratrice eh di Tullio eh a te la parola grazie mille intanto grazie a tutti per la partecipazione sono ancora un po' emozionata e non mi ricordo più chi affermava che non so dove vanno le persone quando scompaiono ma ma so dove restano e sono convinta che giusto appunto questa vulcanica professoressa tutti sappiamo a cui mi sto riferendo eh sia convinta ritenga che chi ha messo eh amore abnegazione e passione nella vita lasci un segno e che questo segno abbia una risonanza nella vita degli altri al punto tale da da creare questi questi appuntamenti e quindi non posso che ringraziare lei in primis per tutti gli sforzi che ha fatto e che continuerà a fare è veramente vulcanica tutti gli altri relatori e lascio la parola a chi è più qualificato di me e intanto ringrazio anche il successore che ho preso in mano le redini e intanto piacere quantomeno di di vederti dal vivo abbiamo avuto qualche scambio ma non ci siamo mai visti personalmente per ora grazie di cuore scusate ma sono ancora un po' emozionata grazie mille Raffaella noi ti scusiamo anzi non c'è proprio niente da scusare anzi ti ringraziamo per essere qui oggi e sei assolutamente qualificatissima a essere qua perché so bene quanto sei stata importante per Tullio e quindi quanto ci sia di tuo anche nel lavoro nel lavoro che ha fatto anche solo stargli vicina a un uomo un pochettino grazie mille Raffaella e poi do il benvenuto a Luca Briasco che ho il grandissimo piacere di avere con noi ringrazio anche Minimum Fax ringrazio che dire Luca è un grandissimo studioso oltre che traduttore scrittore e fra l'altro è l'autore di una bellissima storia della letteratura americana del novecento quindi per tutti gli studenti di secondo anno e poi soprattutto l'anno prossimo quando avremo finalmente il terzo anno di letteratura americana sarebbe molto bello magari lo butto lì che quest'altro anno tu ci venissi proprio a fare un piccolo seminario o qualcosa sui contemporanei perché vengono sempre un po' lasciati fuori e avere la tua genialità la tua versatilità che non è quella del professore dell'accademico puro che racconta magari le cose in maniera più tradizionale mi farebbe molto piacere oggi sei qui per ricordare Tullio e anche per parlarci un po' di te della tua attività di di traduttore se ne voglia quindi ti do volentieri la parola grazie mille guarda grazie Alessandra eh per me ovviamente devo dire la verità sono un po' emozionato anche io per un motivo eh io Tullio non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente però eh un giorno del diciamo mi pare che fosse il febbraio del duemiladiciotto eh mi arriva una telefonata da da Anna Pastore che eh per chi non la conosce insomma la la persona che ha per anni portato avanti diciamo la titanica impresa di inseguire Stephen King perché Stephen King è talmente produttivo eh ed è rimasto nel corso degli anni talmente produttivo che bisogna fondamentalmente corrergli dietro e conciliare la sua produzione eh veramente fluviale con il gigantesco fandom che si è creato intorno a quest'autore che è un fandom che ogni volta che un libro di Stephen King esce in ritardo rispetto all'edizione americana si lamenta di questo protesta dice no ma io lo voglio avere in contemporanea come minimo se no addirittura in anticipo e naturalmente non sempre eh ed è inevitabile un fan e un lettore eh tiene conto diciamo di una figura per l'appunto che è questa figura mezza nascosta eh che che per fortuna e grazie grazie ad Alessandra lì a Urbino non è stata nascosta per un giorno che immagino sia stato veramente per lui un giorno particolare e molto bello cioè la figura del traduttore elementarmente eh c'è una piccola differenza diciamo no fra l'uscita del libro in lingua originale e l'uscita del libro tradotto che è appunto il lavoro infernale infernale perché spesso fatto anche con dei tempi molto stretti a cui si si sottopone il traduttore e quel giorno mi chiamano e mi chiedono e pensavo all'inizio nevicava a Roma pensavo che fosse una presa in giro mi chiesero diceva tu te la sentiresti di eh da adesso di tradurre Stephen King ora io sono cresciuto con Stephen King come tantissimi eh e l'ho sempre sempre più considerato man mano che lo leggevo un semplicemente un caposaldo della letteratura americana contemporanea non l'ho mai considerato un autore non l'ho mai fatto serie A e serie B in letteratura credo che chi fa chi fa serie A serie B eh ha proprio un problema serio eh di metodo e credo per fare serie A e serie B è un problema di metodo quindi un problema serio evidentemente per uno studioso io anche come studioso come del resto anche insieme a un carissimo amico che è Valerio De Angelis che è stato a livello accademico uno di quelli che hanno lavorato con molta serietà su King ho sempre considerato King un grande autore quindi mi sono trovato fra le mani la possibilità di tradurre un grande autore e naturalmente quando si traduce un grande autore e si affronta questa impresa come traduttore i libri che si sono letti e che si sono letti e io non ho difficoltà a dire alcuni li ho letti in originale alcuni li ho letti in italiano eh in seguito tutti a quel punto li vado a leggere in italiano perché credo che un traduttore che prende eh si assume la responsabilità di tradurre un autore così importante già così incistato in modo così profondo della cultura eh italiana perché la cultura italiana appunto non è fatta soltanto di accademia non è fatta soltanto ma è fatta proprio di comunità di persone che leggono ha una responsabilità immediata che è quella di non tradire non solo l'autore ma di non tradire neanche la voce con cui l'autore è arrivato ai lettori è una voce poi particolarmente amata perché poi confrontandomi con la comunità kingiana io non mi sono mai nascosto diciamo non ho fatto il lavoro del traduttore nascosto da una parte non partecipo ai dibattiti su su King non partecipo alle querelle non partecipo alle polemiche perché un traduttore non deve farlo ma d'altro canto però è vero che quest'era di internet io sono tranquillamente membro accolto dei vari gruppi eh che sono dedicati a Stephen King e quindi so benissimo qual è il livello di di affetto e anche di profonda nostalgia nei confronti del lavoro di Giulio questo che cosa comporta per me e con l'occasione appunto vi dico e mi scuso già da ora perché io potrò seguire solo in parte i lavori mi scollegherò mi ricorcherò di ricollegarmi perché anche questa coincidenza non casuale io sono in consegna di traduzione e sono in consegna proprio della nuova traduzione di Stephen King quindi dopo avere finito a non più tardi di fine giugno primi di luglio di tradurre Billy Summers cioè il libro di di King che è in questo momento delle librerie King ha scritto il terzo capitolo di questo progetto che lui ha portato avanti con un altro scrittore e illustratore che è Richard Cismar che è appunto il progetto cosiddetto della scatola dei bottoni e quindi io devo consegnare e mi arrivano mail molto garbate devo dire dalla redazione mi raccomando non bucare la consegna perché noi abbiamo tutti i tempi regimentati eccetera eccetera e quindi sono lì appena mi mi stacco da voi ritorno sulle parole di di King e quindi siamo pienamente in contesto comunque cioè rimarrò in contesto per tutta la giornata indipendentemente da quanto riuscirò poi a ricollegarmi a essere qui tu lui ha due caratteristiche un'altra caratteristica meravigliosa che ogni tanto tu io faccio anche l'editore insomma ovviamente sono il direttore editoriale di Minimum Fax eh ogni tanto mi capita di dire ok voglio fare quest'autore spesso l'ho letto in originale in quei casi si vanno ovviamente a fare le verifiche no e a vedere se il libro è già stato pubblicato se ci sono libri dell'autore già pubblicati in Italia eccetera e a me è capitato per esempio con un autore di genere meraviglioso che fra altre cose vi consiglio assolutamente di recuperare se perché è un autore che è rimasto per lungo tempo semi sconosciuto in Italia che è Herbert Lieberman io faccio una traduzione faccio tradurre un libro di Lieberman che è la città di morti il libro ha un buon successo di conseguenza io vado a lavorare per trovare altri titoli di Lieberman da proporre eccetera eccetera e trovo questo libro di Lieberman il fiore della notte pubblicato da Sperling vado a guardare il nome del traduttore e il nome del traduttore è ovviamente direi quasi Tullio Dobner che è l'occasione in cui ci siamo sentiti anche con Raffaella perché appunto abbiamo fatto questo lavoro diciamo di il classico lavoro che si fa sulle traduzioni ovvero sia di ripetere eccetera naturalmente la traduzione non aveva errori la stessa Raffaella mi ha detto ma rimettici le mani perché qualche volta c'era anche quella piccola tendenza censoria chiamiamola così per cui c'era una certa tendenza la parte dell'editore a diciamo edulcorare alcune parti e via dicendo quindi io mi sono confrontato direttamente con la traduzione di Tullio è stata un'esperienza molto bella ci sono confrontato da revisore quindi ho constatato quelle che sono le caratteristiche inconfondibili secondo me del lavoro di Tullio è quella che come traduttore io ammiro di più cioè questa intanto questa capacità di tradurre ogni volta e voi mi direte eh ci mancherebbe no ci mancherebbe vi assicuro che è un aspetto distintivo del lavoro del traduttore tradurre ogni libro in modo diverso cioè non c'è uno stile Tullio Dopner c'è un traduttore che di volta in volta con le sue specificità perché ognuno di noi ha il suo italiano la sua lingua e perfino i suoi manierismi no nel nell'uso della lingua però ogni volta la capacità di calarsi nel testo e di tradurlo mettendosi in una posizione di servizio nei confronti dell'autore e vi posso assicurare che esistono dei casi in cui non è così in cui il traduttore mette la sua patina in modo molto pesante sulla scrittura dell'autore quindi se si va a leggere un traduttore si ha la strana straniante sensazione di libri scritti magari da tre quattro autori che sembrano scritti dallo stesso autore in quel caso l'autorialità del traduttore che sicuramente almeno in parte esiste il traduttore è sicuramente una fa un'opera d'ingegno e l'opera d'ingegno include una componente di creatività però in quel caso la creatività esonda e va oltre i limiti del consentito non ho mai visto Tullio andare oltre i limiti del consentito e contemporaneamente ne ho visto fare cose eroiche in un periodo in cui come diceva Alessandra non c'erano gli strumenti a disposizione che abbiamo oggi cioè oggi commettere un errore in fase di traduzione è quasi imperdonabile quasi perché sbagliamo tutti quindi sottolineo il quasi perché è inevitabile che si sbagli però oggi l'errore non è giustificabile un tempo l'errore era ampiamente giustificabile nel caso in cui King non ha perso la sua abitudine di non volere avere a che fare con i traduttori in altre lingue però ecco diciamo che oggi abbiamo una marea di strumenti che evidentemente Tullio non poteva avere e nonostante questo le traduzioni di Tullio di King mi accompagnano perché io ogni volta che mi metto a fare una traduzione nuova prendo un qualunque libro tradotto da Tullio prendo anche i libri tradotti da chi ha seguito Tullio e ha preceduto me intendiamoci ma in particolare i libri di Tullio perché Tullio è il traduttore principe di King e me li leggo e me li leggo perché in quella maniera quella voce mi suona nell'orecchio nel momento in cui io lavoro mi deve proprio suonare deve essere un'armonia che mi suona e su quell'armonia insieme all'armonia dell'originale io mi metto con grande gioia sempre a fare il mio lavoro quindi in questo senso Tullio mi accompagna praticamente grosso modo dal 2018 non voglio dire tutti i giorni ma poco ci manca perché come vi dicevo insomma tra Burre King significa tra Burre King quasi tutti i giorni visto che il maledetto non ci pensa proprio a diminuire o a calare i suoi ritmi produttivi come faccia nessuno lo sa non ha più ausili di altro tipo come aveva da giovane ma questo non gli impedisce di tenere dei ritmi veramente spaventosi ecco io un po' questo volevo dirvi aggiungere che naturalmente nel momento in cui perché so che Alessandra è tenace e quindi so anche che prima o poi ci si arriva e quindi si arriverà io sono convinto anche a istituire un premio per Tullio io la mia disponibilità ad Alessandra anche come minimum fax la diedi a suo tempo e continua a rimanere valida oggi rimarrà valida domani fra un anno o fra due quando appunto si sbloccheranno queste questioni che non dipendono certamente da Alessandra e lo so bene e aggiungo un'ultimissima cosa ovviamente per quanto riguarda il tuo invito tu sai anche che io ho un rapporto particolare con la città di Urbino perché ho un illustre nonno che era Pasquale Rotondi che è stato insomma un personaggio molto importante è stato sovrintendente alle belle arti durante la seconda guerra mondiale ha una storia meravigliosa che è legata a Urbino quindi per me Urbino non è una città qualunque è una città dell'anima quindi figuriamoci se non sarei lieto di venire e mettermi a disposizione insomma dei tuoi studenti quando sarà quando vorrai e poi insomma ne parleremo diciamo fuori da qui che questa non è la sede perché questa questa sede è una sede che riguarda in pieno Tullio io ora mi devo concedere da voi però insomma ho il link quindi cercherò ogni tanto di riaffacciarmi e di origliare scusate questa questa forma che non sopporto devo dire la verità perché a me piace partecipare alle cose dall'inizio alla fine ma appunto sono in consegna sono sicuro che Tullio mi capirebbe perché sa bene che cosa vuol dire essere in consegna e avere il l'editore sul coppino come si dice che ti che ti tormenta però grazie a tutti un piacere conoscerti Raffaella e non vi rubo altro tempo perché avevo rubato anche troppo già non avrebbe neanche probabilmente fatto la presenza per cui sei grandioso no penso neanche il tempo proprio e quindi grazie a te e grazie per il lavoro che stai facendo grazie di cuore davvero grazie veramente Luca io mi sono presa degli appunti perché hai detto cose che poi ribadirò anche con gli studenti con i colleghi traduttori sono cose fondamentali a parte la prima che velocissimamente voglio ribadire stare fuori dalle querelle perché ce ne sono state e sono state molto umilianti secondo me proprio brutte 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 l'idea di cultura come di qualcosa che è una comunità questa idea della comunità che mi ricorda un po' anche la cultura convergente di Jenkins mi piace moltissimo quindi non c'è l'accademia non c'è la fandom ma c'è una unica comunità che deve collaborare e poi il fatto di rispettare i traduttori preesistenti perché anche un modo per migliorarci noi è un modo per confrontarci con il già detto il già fatto e quanto è vero che ci sono traduzioni per esempio penso c'è una una famosa di santuario di Faulkner che un mio collega mi ha detto senti ma tu mi continui a dire che Faulkner è tanto bello ma perché ma sei sicura che io devo leggerlo e io gli ho detto guarda per piacere leggine un altro perché quello è tradotto in un modo che già la prima pagina io non ce la posso fare a quei tempi sarà anche andata bene ma insomma prova a leggerlo in originale ecco ci sono dei romanzi un po spinosi sono stati tradotti con degli strani lemmi un po un po desueti mentre Faulkner se lo leggetti in originale sembra scritto ieri cioè il problema è che gli autori sono sempre molto più moderni dei loro traduttori spesso quindi importantissimo comunque leggere quello che è già stato fatto per il rispetto dei traduttori precedenti e anche per aiutarci nel lavoro per vedere come sono state risolte certe certe cose così come questa cosa di essere a servizio dell'autore chiaro non ci deve essere uno stile del traduttore quest'altra cosa che hai che hai puntualizzato è fondamentale cioè non è che io devo riconoscere di chi è quella traduzione perché ci sono per esempio dei toscanismi o perché ci sono dei modi di dire no devo riconoscere la qualità ecco soltanto questo per cui grazie mille ci hai dato una lezione veramente fondamentale e poi noi ci sentiamo poi presto per tutte le altre cose grazie a tutti spero di venervi più tardi e magari riesco a riaffacciarmi va bene noi siamo qui lo sai ok grazie ancora un lavoro intanto grazie ancora